mazzara dei pescatori mazzara delle centochiese mazzara del satiro mazzara che è meglio marsala mazzara che è meglio castelvetrano diceva l'attore rosario lisma nel suo famoso monologo mazzara che è meglio mazzara vogliamo dire noi mazzara del vallo città valore il nostro tour inizia da corso umberto primo arteria fondamentale della città che da piazza mocarta arriva fino a piazza matteotti conosciuta anche come torre bianca in memoria dell'antica costruzione di difesa voluta dal conte ruggero d'altavilla la via è chiusa al traffico è quindi zona ideale per lo shopping e se presi dai vostri acquisti avete bisogno di un attimo di ristoro beh allora fermatevi da coppetta food passion e gelateria concedetevi un pranzo gustoso o un caffè magari accompagnato da qualcosa di svizioso dolce salato e per tutti i palati oppure un aperitivo da consumare in compagnia nella via dello shopping cittadino borse portafogli sciarpe e molto altro di marche attuali alla moda tutto questo lo troviamo da civico 56 che nei suoi accoglienti locali offre alla clientela accessori di importanti brand come furla gioccellini jackie and selene civico 56 si configura così come il punto di riferimento del buon gusto in fatto di accessori l'attenzione verso i bambini non è mai troppo e per questo c'è un nome che è di per sé una vera garanzia è chicco azienda leader internazionale con la mission di far felici i bambini fin dalla nascita e aiutare i genitori nella loro crescita con soluzioni sicure e pensate e con un vasto assortimento di prodotti di ogni genere e tipologia essenze profumi e fragranze si mescolano insieme e producono il caloroso ambiente dell'erboristeria l'angolo verde che da 25 anni offre ai suoi clienti ottimi rimedi naturali per la cura e la bellezza del corpo con marchi specializzati e innovativi un angolo per il benessere naturale nel cuore della città certe mattine mi sveglio e non so se sono vivo o sono morto poi apro la porta ed esco sono nato per stare nella strada a dirlo fu salvino catania pittore mazzarese scomparso nel 2013 non era difficile incontrarlo proprio lungo corso umberto primo magari con qualche dipinto appena ultimato sotto braccio e che spesso vendeva per pochi soldi ai commercianti del centro per l'uomo alla ricerca di un tocco classico elegante e ricercato è inevitabile l'appuntamento da safina abbigliamento autorevole nome nel panorama della moda maschile tante proposte sempre nuove e per ogni occasione con promozioni settimanali diverse con sconti del 30 per cento corso umberto primo il salotto della città con i suoi accoglienti negozi è in grado di soddisfare ogni richiesta anche quella delle mamme che per i loro bambini e ragazzi vogliono prodotti ipoallergenici testati e certificati dove trovarli da original marines ovviamente ottimo rapporto qualità prezzo con capi privi di coloranti o materiali tossici realizzati con cotton usa uno dei migliori al mondo senza tralasciare comodità e originalità perché chi vive original veste original la scelta ideale per la donna glamour femminile e romantica è motivi outfit originali e pratici ma mai privi di quel tocco di classe look unici e al passo con la moda mille proposte e mille motivi per visitare il punto vendita nel corso umberto primo troviamo anche oltre ottimo connubio tra stile e vestibilità per le donne che vogliono sentirsi giovani e fashion ed ancora fiorella rubino propone taglie comode create appositamente per donne curvi che vogliono vestire alla moda se non potete fare a meno di seguire la moda e siete affascinati dai nuovi trend l'imperativo è merenda abbigliamento nome storico nel panorama moda della città capì casual per l'uomo e la donna metropolitani abbigliamento elegante da sfoggiare per le occasioni più importanti e un assortimento senza paragoni di jeans il suggestivo corso umberto primo insieme con le altre vie centrali di mazzara conserva un antico mistero quello legato ad una figura davvero singolare l'uomo cane ed è convinzione diffusa che tommaso lipari vissuto in città dal 1940 al 1973 e che veniva chiamato omu cani fosse in realtà ettore maiorana il famoso scienziato scomparso misteriosamente nel 1938 l'uomo cane non ha mai chiesto l'elemosina mangiava quel che trovava rovistando tra i rifiuti dormiva all'aperto in un incavo dei ruderi del castello normanno appare come un punto luce nelle giornate invernali in cui fa buio presto è magic moment storica gioielleria con preziosi di classe e qualità akita savoia versus e molti altri gioielli di pregevole fattura e raffinatezza per un dettaglio splendente e unico da indossare è sul lato destro del corso andando verso piazza matteotti che incontriamo leocard il posto giusto per uno stile inconfondibile ideale per creare outfit glamour e sempre attuali con marchi leader della moda femminile e grande attenzione anche per l'uomo che vuole vestire bene senza tralasciare i dettagli entrare a contatto con un clima caloroso ed accogliente nel quale scegliere un'idea regalo un accessorio per la casa o comporre la vostra lista nozze non potrebbe essere più piacevole il borgo linee distinte e raffinate sulle quali brilla svaroschi con la sua oggettistica e gioielli di alta qualità e di straordinario impatto visivo per la sua particolare posizione di città di frontiera nella sua storia mazzara del vallo ha conosciuto ben 13 dominazioni fenici greci cartaginesi romani bizantini vandali goti saraceni normanni svevi angioini aragonesi e borboni ancora oggi la città è meta di tanti turisti che da ogni parte del mondo ne vengono ad ammirare le bellezze e le peculiarità interessante perdersi in centro alla ricerca di qualcosa di particolare per il proprio shopping piuttosto che chiudersi in un centro commerciale per il divertimento dei più piccoli c'è didolmania giocattoli per tutte le età e tutte le novità di cui i bambini sono alla ricerca conduci i tuoi piccoli in un mondo di fantasia e colore offrigli l'occasione di scegliere i suoi giochi preferiti e tante proposte di appigliamento e accessori durante il nostro shopping in corso umberto primo ci fermiamo da tecnotica portoghese perché a nessuno può mancare un occhiale da sole tecnotica portoghese è attività leader nella vendita di occhiali da sole e da vista con personale esperto e competente che saprà secondare le vostre preferenze ed esaltarle al meglio lungo questa importante arteria troviamo poi donne ciraolo storica risorsa per chi vuole vestire bene e con classe sinonimo di eleganza capi di tendenza e di alta qualità per la donna e l'uomo che non seguono la moda ma la fanno nella via dello shopping mazzarese è facile perdersi nelle proposte moda più attuali e giovani ang è punto d'incontro tra la qualità delle aziende più prestigiose e le novità più attuali delle griffe rinomate la moda uomo per ogni momento scontata del 30 per cento siamo dell'idea che non esista città più accogliente e ospitale di mazzara del vallo una città da vedere da visitare e da vivere mazzara del vallo città valore Grazie Grazie Grazie